La partita, una sola vittoria, sette pareggi e quattro sconfitte, solo sei reti segnate e dodici subite. Numeri da medio-bassa classifica per il Catania di Rigoli, che ha lasciato il timone a Petrone alla guida domani della sua prima trasferta sulla panchina del Catania. Numeri ingenerosi di fronte ad una squadra che in casa invece ha conquistato punti pesantissimi. Ben 33 con 10 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta a fronte anche dei 25 gol segnati. E' proprio questa, forse, la chiave per leggere la differenza a casa trasferta che sta caratterizzando la stagione del Catania. 25 gol segnati in casa, 6 in trasferta. Ben 19 reti di differenza troppe per chi cerca disperatamente un equilibrio e una svolta lontana dalle mura amiche del Massimino. Troppo facile parlare di Jekyll e Hyde per il Catania, bello in casa e brutto fuori, ma la metamorfosi è un dato concreto con cui lo Monaco sta cercando di fare i conti. L'emblema della stagione è stata la spina staccata al ventesimo contro l'Akragas, quando il parziale sorrideva per 1-0 contro una squadra che di gigante aveva solo il soprannome. Risultato finale, 2-1, sconfitta e testa bassa. No, insomma, la svolta stavolta era necessaria, così Petrone è l'uomo chiamato a concretizzare lontano dal Massimino punti pesanti, anche in ottica playoff, dove il fattore campo può costare e pesare tantissimo. Dunque Messina, primo step del cammino delle 7 trasferte, dove serviranno più punti possibili per provare a centrare un posto in zona blu della classifica, che possa avere il sapore dolce di una squadra proiettata a non voler mollare davvero nulla.